Oggi grande giornata, proviamo questa Benelli 906 E' un momento abbastanza complicato, interessante perché comunque questa moto qua io la vedevo quando avevo 14 anni Tra l'altro è interessante vedere come sono cambiate le moto in tutto questo periodo E' vedere questa moto qui come va oggi, come frena, come va il motore, soprattutto il motore Sarà abbastanza emozionante riprovare questa moto qua, vediamo La prima cosa che colpisce è il motore, è un bellissimo sound meccanico, oggi non siamo più abituati a sentirlo Ha una buona coppia, però sale di giri lentamente A metà regimi è come se fosse frenato, fai fatica ad arrivare alla zona rossa Poi mi ha sorpreso la ciclistica che è abbastanza moderna considerando l'età Soprattutto perché è anche sportiva rispetto alle rivali dell'epoca, le giapponesi che erano più morbidine Questa bella, bella sostenuta, non accenna neanche a muoversi Ha una bellissima guida molto, molto precisa Somma in definitiva è proprio bella, bella questa Benelli E sono molto, molto contento di averla ritrovata oggi Benelli Bobbi 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 Grazie a tutti.